che ci ha insegnato San Giuseppe Marello tutto quello che noi facciamo lo dobbiamo fare davanti a Gesù quando lavoriamo, quando mangiamo, quando camminiamo sempre fare tutta la presenza di Gesù quindi Gesù non sta solo in chiesa, Gesù sta in tutti i posti dove noi stiamo Gesù deve stare a casa vostra Gesù deve stare dove voi lavorate Gesù deve stare dove voi camminate questo è il segreto della spiritualità di San Giuseppe Marello poi San Giuseppe Marello ha spiegato un poco meglio questo segreto con una frase molto famosa fate sempre gli interessi di Gesù come li fece San Giuseppe questo è il segreto allora fare gli interessi di Gesù per esempio in tutto il mondo dicono che quando due donne stanno insieme Gesù è il segreto Gesù ha capito? ma ti ha capito? allora c'è tu guarda gli altri con critiche con giudizi non è fare gli interessi di Gesù giudicare gli altri non è fare gli interessi di Gesù essere fiolenti, prepotenti non è fare gli interessi di Gesù interesse di Gesù è comportarsi bene con gli altri perdonare gli altri aiutare gli altri allora questo è il segreto della nostra spiritualità fare sempre gli interessi di Gesù gli interessi di Gesù gli interessi di Gesù